metto su qualche milione di chili di troppo la cosa orribile era che riuscivo a vedere la somiglianza atlante aveva la stessa espressione regale di zoe lo stesso sguardo gelido e fiero che a volte aveva lei quando si arrabbiava anche se su di lui sembrava mille volte più malvagio era tutte le cose che all'inizio non mi erano piaciute di zoe senza nessuna delle qualità che avevo imparato ad apprezzare lasciate andare artemide esclamò zoe perentoria atlante si avvicinò alla dea incatenata forse ti piacerebbe reggere il cielo al suo posto allora accomodati zoe fece per rispondere ma artemide disse no non ti offrire zoe te lo proibisco atlante fece un sorrisetto compiaciuto si inginocchiò accanto alla dea e cercò di toccarle il viso ma artemide lo morse e per poco non gli staccò due dita ridacchiò lui vedi figlia alla divina artemide piace il suo nuovo lavoro penso che costringerò tutti gli dèi a portare il mio fardello a turno quando recrono sarà tornato al governo e questo sarà il centro del nostro palazzo insegnerà a quegli smidollati un po' di umiltà guardai annabeth stava cercando disperatamente di dirmi qualcosa accennava col capo a liuk ma io non potevo fare altro che fissarla non l'avevo notato prima ma qualcosa nel suo aspetto era cambiato i suoi capelli biondi adesso erano striati di grigio per lo sforzo di sorreggere il cielo mormorò talia come se mi avesse letto nel pensiero il peso avrebbe potuto ucciderla non capisco dissi perché artemide non può lasciarlo andare atlante rise quante poche cose comprendi giovincello questo è il punto in cui il cielo e la terra si incontrarono per la prima volta il luogo in cui urano e gaia diedero alla luce i loro possenti figli i titani il cielo brama ancora abbracciare la terra qualcuno deve tenerlo a bada altrimenti si schianterebbe qui radendo al suolo la montagna all'istante e ogni altra cosa nel raggio di centinaia di leghe una volta che ci si è fatti carico di questo peso non c'è scampo atlante sorrise a meno che qualcuno di voi non si offra di prendere il tuo posto venne verso di noi studiando me e talia e così questi sono gli eroi migliori di quest'epoca eh non un granché come sfida si batta con noi replicai e vedremo gli dèi non ti hanno insegnato nulla un immortale non si batte direttamente contro un mero mortale è poco dignitoso lascerò che sia Luke a schiacciarti e così è un codardo ribattei gli occhi di atlante luccicarono di odio con un certo sforzo rivolse la sua attenzione a talia quanto a te figlia di zeus sembra che Luke si sia sbagliato sul tuo conto non mi sono sbagliato riuscì a protestare Luke sembrava debolissimo e pronunciava ogni parola come se gli costasse una gran sofferenza se non lo avessi odiato tanto mi avrebbe fatto quasi pena talia puoi ancora unirti a noi chiama l'offio tauro verrà da te guarda fece un gesto con la mano e accanto a noi comparve una vasca d'acqua uno stagno contornato di marmo nero abbastanza grande da contenere l'offio tauro riuscivo a immaginare Bessi in quella vasca in effetti più ci pensavo più mi sembrava di sentirlo muggire non pensare a lui all'improvviso udì la voce di Grover nella mia testa il collegamento empatico riuscivo a percepire le sue emozioni era in preda al panico sto perdendo Bessi blocca quei pensieri cercai di svuotare la mente cercai di pensare ai giocatori di pallacanestro agli skateboard ai diversi tipi di dolciumi nel negozio di mia madre a qualunque cosa tranne che a Bessi talia chiama l'offio tauro insistette Luke e sarai più potente degli dei Luke la voce di Talia era piena di dolore che ti è successo? non ricordi più i nostri discorsi tutte le volte che abbiamo maledetto gli dei i nostri padri non hanno fatto nulla per noi non hanno alcun diritto di governare il mondo Talia scosse la testa libera Annabeth lasciala andare se ti unisci a me promise Luke sarà come ai vecchi tempi noi tre insieme a lottare per un mondo migliore ti prego Talia se non accetti gli tremò la voce questa è la mia ultima possibilità se non accetti userà altri metodi ti prego non sapevo a cosa alludesse ma la paura nel suo tono sembrava abbastanza reale Luke era in pericolo adesso ne ero certo la sua vita dipendeva dalla decisione di Talia di unirsi alla sua causa e temevo che anche lei si lasciasse convincere non farlo Talia l'ammonizzò e dobbiamo combatterli Luke fece un altro gesto con la mano e fece comparire un fuoco un bracere di bronzo proprio come quello del campo un fuoco sacrificale Talia dissi no alle spalle di Luke il sarcofago d'oro cominciò a risplendere e nello stesso istante vidi delle immagini nella nebbia che ci circondava pareti di marmo che si innalzavano rovine che ritornavano intatte un palazzo splendido e terribile che ci sorgeva attorno fatto di paura e tenebre faremo risorgere il monte Otri proprio qui promise Luke in una voce così rotta da non sembrare neanche la sua sarà di nuovo più forte e più grande dell'Olimpo guarda Talia non siamo deboli indicò l'oceano ed ebbi un tuffo al cuore su per il fianco della montagna dalla spiaggia su cui era attraccata la principessa Andromeda stava marciando un grande esercito dracene e le strigoni mostri e mezzosangue segugi infernali arpie e altre creature che non sapevo nemmeno nominare l'intera nave doveva essersi svuotata perché erano a centinaia molti più di quelli che avevo visto a bordo l'estate prima e marciavano verso di noi nel giro di pochi minuti ci avrebbero raggiunti questo è solo un assaggio di ciò che sta per accadere disse Luke presto saremmo pronti a mettere a ferro e fuoco il campo mezzosangue e dopo toccherà all'Olimpo ci serve soltanto il tuo aiuto per un momento terribile Talia esitò guardava Luke con occhi pieni di dolore come se l'unica cosa che volesse al mondo fosse credergli poi puntò la lancia tu non sei Luke io non ti conosco più sì che mi conosci Talia la supplicò lui ti prego non costringermi a non costringere lui a distruggerti non c'era più tempo se quell'esercito fosse arrivato in cima alla montagna ci avrebbe sbaragliato incontrai di nuovo gli occhi di Annabeth lei annui guardai Talia e Zoe decisi che c'erano cose peggiori al mondo che morire combattendo al fianco di amiche come loro ora dissi e attaccammo insieme Talia si slanciò subito verso Luke il potere del suo scudo era tale che le draccene di guardia fuggirono nel panico mollando il sarcofago e abbandonando il loro comandante ma nonostante l'aspetto provato Luke era ancora rapido ringhiò come una belva e partì al contrattacco quando la sua spada vipera cozzò contro lo scudo d'Italia una palla di luce scaturì dall'impatto friggendo l'aria in gialle volute di elettricità quanto a me feci la cosa più stupida della mia vita il che la dice lunga attaccai Atlante signore dei titani lui rise mentre mi avvicinavo un giavellotto enorme comparve fra le sue mani il suo completo di seta si sciolse in un'armatura da guerra greca fatti avanti sì persi gridò Zoe attento sapevo da che cosa mi stava mettendo in guardia Chirone me lo aveva detto tanto tempo prima gli immortali sono vincolati da antiche regole ma gli eroi possono andare ovunque sfidare chiunque purché abbiano il coraggio e la forza di farlo una volta attaccato tuttavia Atlante era libero di rispondere direttamente con tutta la sua potenza sferrai un fendente e Atlante mi colpì con l'asta del giavellotto facendomi volare contro una parete nera quella non era più foschia il palazzo stava risorgendo mattone dopo mattone stava diventando reale sciocco sbraitò Atlante scansando con un colpo della mano una freccia di Zoe pensavi che soltanto perché hai potuto sfidare quell'insulso dio della guerra saresti stato capace di affrontare me l'allusione ad Ares mi fece trasalire mi riscossi dallo stordimento e attaccai di nuovo se fossi riuscito a raggiungere la vasca piena d'acqua avrei potuto raddoppiare la mia forza la punta del giavellotto si mosse come una falce sollevai vortice con l'intenzione di mozzare l'asta ma mi sentii il braccio di piombo all'improvviso la spada sembrava pesare una tonnellata e ricordai l'avvertimento di Ares pronunciato sulla spiaggia di Los Angeles tanto tempo prima ogni volta che alzerai la spada in battaglia sentirai la mia maledizione non adesso supplicai ma non servì a nulla cercai di schivare il colpo ma l'asta del giavellotto mi investì in pieno petto scaraventandomi in aria come un fantoccio piombai a terra con la testa che girava a mille quando alzai gli occhi vidi che mi trovavo ai piedi di Artemide che sorreggeva ancora faticosamente il peso del cielo scappa ragazzo mi esortò la dea devi scappare Atlante mi stava venendo incontro ma se la prendeva comoda la mia spada era sparita scivolata da qualche parte oltre il bordo della scogliera mi sarebbe riapparsa in tasca nel giro di pochi secondi ma non aveva importanza sarei stato già morto allora Luke e Talia combattevano indiavolati in un alone di energia elettrica Annabeth era a terra e cercava disperatamente di liberarsi le mani muori piccolo eroe esclamò Atlante alzò il giavellotto per trafiggermi no gridò Zoe e una raffica di frecce d'argento spuntarono sulla scella di Atlante nell'interstizio dell'armatura ah ululò lui e si voltò verso la figlia io abbassai la mano e sentì che vortice mi era tornata nella tasca ma non potevo combattere contro Atlante nemmeno con la spada e poi sentì corrermi un brivido lungo la schiena ricordai le parole della profezia la maledizione del titano uno dovrà patire io non potevo sperare di sconfiggere Atlante ma qualcun altro forse sì il cielo dissi alla dea lo dia a me no ragazzo rispose Artemide aveva la fronte imperlata di sudore metallico simile a mercurio tu non sai che cosa chiedi ti schiaccerà Annabeth c'è riuscita ed è viva per miracolo ha lo spirito di una vera cacciatrice tu non durerai tanto a lungo morirò comunque replicai mi dia il peso del cielo non aspettai la risposta sguainai vortice e spezzai le sue catene poi mi chinai accanto a lei mi puntellai su un ginocchio con le mani alzate e toccai quelle nuvole gelide e pesanti per un attimo io e Artemide sorreggemmo il carico insieme era la cosa più pesante che avessi mai sentito come essere investiti da un migliaio di tir volevo svenire dal dolore ma trassi un respiro profondo posso farcela poi Artemide scivolò via e sostenni il fardello da solo in seguito provai molte volte a spiegare che effetto facesse ma era indescrivibile ogni muscolo del mio corpo andò in fiamme mi sentivo sciogliere le ossa avrei voluto gridare ma non avevo la forza di aprire la bocca cominciai ad affondare sempre più giù nel terreno sotto il peso del cielo che mi schiacciava reagisci gridò la voce di Grover nella mia testa non ti arrendere mi concentrai sulla respirazione se solo fossi riuscito a sostenere il cielo per qualche altro secondo ripensai a Bianca che aveva dato la vita per permetterci di arrivare lì se lei aveva potuto fare una cosa del genere io potevo sorreggere il cielo mi si annebbiò la vista tutto era tinto di rosso intravedi degli scorci della battaglia ma non ero certo di vederci bene c'era Atlante in armatura da guerra che sferrava colpi di giavellotto e rideva come un pazzo e Artemide una macchia d'argento aveva due affilatissimi coltelli da caccia e menava raffiche di colpi contro il titano chinandosi e saltando con una grazia incredibile sembrava cambiare forma di continuo era una tigre una gazzella un orsa un falco o forse era solo il mio cervello sovrecitato Zoe scoccava frecce contro il padre mirando agli interstizi dell'armatura Atlante rugiva di dolore ogni volta che andavano a segno ma per lui erano come punture d'insetto si infuriava ancora di più e continuava a combattere Talia e Luke due lavano a lancia e spada ancora circondati di fulmini Talia costrinse Luke ad arretrare con l'aura del suo scudo nemmeno lui era immune dal potere dell'egida Luke sobbalzò con un ringhio di frustrazione arrenditi gridò Talia non sei mai riuscito a battermi Luke lui scoprì i denti lo vedremo amica mia la faccia mi grondava di sudore avevo le mani scivolose e se le mie spalle avessero avuto una voce avrebbero gridato agonizzanti mi sentivo come se le vertebre della spina dorsale si stessero saldando insieme sotto il fuoco di una torcia Atlante avanzò incalzando Artemide la dea era veloce ma la forza del titano era inarrestabile il giavellotto si conficcò a terra nel punto in cui una frazione di secondo prima c'era Artemide e una crepa si spalancò nella roccia lui la superò con un balzo e continuò a inseguirla lei lo stava riconducendo verso di me preparati disse nella mia mente io stavo perdendo la capacità di pensare per il dolore la mia risposta fu qualcosa tipo ai combatti bene per essere una ragazzina Atlante rise ma non puoi competere con me fece una finta con la punta del giavellotto e Artemide la schivò riconobbi il trucco l'asta del giavellotto ruotò dalla parte opposta e colpì la dea sulle gambe facendola scivolare a terra Atlante si preparò a trafiggerla di punta no gridò Zoe balzò fra il padre e la dea e scoccò una freccia che si conficcò come un corno sulla fronte del titano Atlante ululò di rabbia sbatte via la figlia con il dorso della mano scagliandola sulle rocce nere avrei voluto gridare il suo nome e correre ad aiutarla ma non riuscivo né a parlare né a muovermi non riuscivo nemmeno a vedere dove fosse atterrata poi Atlante si voltò verso Artemide con un'espressione di trionfo la dea sembrava ferita non si alzò il primo sangue di una nuova guerra gongolò e sferrò il colpo rapida come il pensiero Artemide afferrò l'asta del giavellotto la punta si conficcò proprio accanto a lei e la dea tirò verso di sé usando il giavellotto come una leva e sferrando allo stesso tempo un calcio al titano Atlante volò sopra la sua testa me lo vidi arrivare contro e capì cosa sarebbe accaduto allentai la presa sul cielo e quando Atlante mi investì non opposi resistenza mi lasciai spingere via e rotolai con tutte le mie forze il peso del cielo ricadde sulle spalle di Atlante schiacciandolo fino quasi a terra finché lui non riuscì a mettersi in ginocchio cercando di uscire da sotto l'enorme carico ma era troppo tardi nooo ululò così forte da far tremare la montagna non un'altra volta il dio era intrappolato sotto il suo antico fardello io cercai di alzarmi e ricaddi a terra stordito dal dolore mi sentivo il corpo in fiamme Talia aveva fatto arretrare Luke fino all'orlo di un precipizio ma continuavano a combattere accanto al sarcofago d'oro lei aveva le lacrime agli occhi lui sanguinava dal petto e il suo volto pallido luccicava di sudore il ragazzo cercò di piazzare un affondo ma Talia lo parò con lo scudo la spada di Luke volò via e cadde sferragliando sulle rocce lei gli puntò la lancia alla gola ci fu un breve attimo di silenzio allora chiese Luke stava cercando di nasconderlo ma mi accorsi della paura nella sua voce Talia tremava dalla rabbia Annabeth comparve alle sue spalle finalmente libera dalle manette aveva il viso graffiato e sporco di terra non ucciderlo è un traditore replicò Talia un traditore nel mio stordimento mi resi conto che Artemide non era più con me era corsa verso le rocce nere dove era caduta Zoe lo faremo prigioniero la supplicò Annabeth lo porteremo sull'Olimpo sarà sarà utile è questo che vuoi Talia la scherni Luke tornare sull'Olimpo in trionfo accontentare il tuo paparino Talia esitò e in un gesto disperato Luke cercò di afferrare la sua lancia no gridò Annabeth ma era troppo tardi distinto Talia si difese scansandolo con un calcio Luke perse l'equilibrio con il terrore dipinto sul volto e poi cadde Luke urlò Annabeth corremmo sull'orlo del precipizio sotto di noi l'esercito della principessa Andromeda si era fermato sbigottito stavano guardando il corpo di Luke sfracellato sulle rocce con tutto l'odio che avevo per lui non sopportavo la vista di quella scena avrei voluto credere che fosse ancora vivo ma era impossibile era stata una caduta di almeno 15 metri e lui non si muoveva uno dei mostri alzò lo sguardo e ringhiò uccideteli Talia era pietrificata dal dolore le guance rigate di lacrime la tirai via mentre una raffica di giapellotti volava sopra le nostre teste corremmo verso le rocce ignorando le imprecazioni e le minacce di Atlante Artemide gridai la dea alzò lo sguardo il viso tirato dal dolore quasi quanto quello di Talia Zoe giaceva fra le sue braccia respirava aveva gli occhi aperti però la ferita è avvelenata disse Artemide Atlante l'ha avvelenata? chiesi no rispose la dea non è stato Atlante ci mostrò la ferita sul fianco di Zoe mi ero quasi dimenticato del morso di Ladone era stato molto più feroce di quanto lei avesse dato a vedere riuscivo a malapena a guardare la ferita Zoe aveva sfidato il padre in battaglia con quell'orrendo taglio che la indeboliva le stelle mormorò Zoe non riesco a vederle Nettere e Ambrosia dissi svelti ne ha bisogno nessuno si mosse il dolore aleggiava nell'aria l'esercito di Crono era in fondo alla salita perfino Artemide era troppo scioccata per agire avremmo potuto finire lì i nostri giorni ma poi udì un rumore strano come un forte ronzio nell'istante stesso in cui l'esercito sbucava sulla vetta un swap with camel piombò giù dal cielo via da mia figlia gridò il dottor Chase e le sue mitragliatrici entrarono in azione costellando il terreno di fori di pallottole e sparpagliando l'intero gruppo di mostri sbigottiti papà fece Annabeth incredula correte gridò lui di rimando la voce che si affievoliva al passaggio del biplano la scena riscosse Artemide dal suo dolore scrutò quel cimelio volante che ora stava virando per compiere un altro attacco a bassa quota un uomo coraggioso commentò in un tono di burbera approvazione venite dobbiamo portare Zoe via di qui si avvicinò il corno da caccia alle labbra e il suo suono nitido riecheggiò lungo le vallate della contea Zoe stava sbattendo le palpebre tieni duro le dissi andrà tutto bene il swap with camel piombò di nuovo all'attacco alcuni giganti lanciarono dei giavellotti e uno volò diritto fra le ali del biplano ma le mitragliatrici fecero fuoco mi resi conto che il dottor Chase doveva essersi procurato del bronzo celeste per fabbricare le pallottole sotto la raffica delle mitragliatrici infatti la prima fila di dracene esplose con un gemito in una nube giallo zolfo quello è è mio padre esclamò Annabeth stupita non c'era il tempo di ammirare le sue prodezze di volo i giganti e le donne serpente si stavano già riavendo dalla sorpresa il dottor Chase sarebbe stato presto nei guai in quell'istante la luce della luna si intensificò e in cielo comparve un carro d'argento trainato dal cervo più bello che avessi mai visto atterrò proprio accanto a noi salite ci invitò Artemide Annabeth mi aiutò a trascinare le taglie a bordo poi io aiutai Artemide con Zoe la avvolgemmo in una coperta mentre la dea afferrava le redini e il carro volava via dalla montagna allontanandosi a gran velocità dritto nell'aria come la slitta di Babbo Natale mormorai ancora stordito dal dolore Artemide ebbe il garbo di voltarsi a rispondere esatto giovane mezzosangue da dove pensi che abbia avuto origine quella leggenda quando ci vide partire sani e salvi il dottor Chase virò con il suo biplano e ci seguì come una guardia d'onore deve essere stata una scena davvero assurda perfino per la baia di San Francisco un carro volante d'argento trainato da un cerbo scortato da un swap with camel alle nostre spalle l'esercito di Crono ormai al completo gridò tutta la sua rabbia sulla cima del monte Temalpais ma il suono più forte di tutti era la voce di Atlante che malediceva gli dei sotto il peso in mane della volta celeste